Luca World fa tutto, la fiction, il cinema, le serie tv, quanto è importante abbracciare ogni media? È importante perché ti dà la possibilità intanto di lavorare sempre, tutti i giorni della tua vita, non hai mai momenti di fermo, perché oggi c'è il doppiaggio, domani c'è il teatro, dopodomani c'è la radio, poi c'è la pubblicità, poi c'è il cinema, poi c'è la tv e quindi salti da una specialità all'altra, questa è una cosa che mi hanno insegnato i grandi vecchi attori con i quali io ho avuto la fortuna di lavorare, ho lavorato con tutti i giganti della televisione italiana e del cinema e mi dicevano sempre, devi saper fare tutto, se sai fare tutto, un piatto di minestra lo porti a casa. Aver fatto non soltanto questo mestiere, ovvero l'attore e il doppiatore, ma anche il camionista, il venditore, secondo lei le dà una marcia in più, sa interpretare meglio i ruoli, sa bene dov'è l'umanità vera? Ma guardi, io adesso non so se aver fatto il camionista o aver venduto le bibite sugli spalti di Vallelunga mi fa essere più capace o meno capace, insomma non lo so, certamente mi dà una dimensione diversa, cioè stiamo parlando di lavori veri, cioè fare il camionista è un lavoro duro, massacrante, è una responsabilità, il nostro è un lavoro dove tutto sommato siamo fortunati perché giochiamo, noi giochiamo tutti i giorni della nostra vita, una volta in teatro, una volta su un set, una volta appunto in una sala di doppiaggio e questo insomma diciamo che ci rende fortunati, tra virgolette. Capire l'umanità sì, forse si riesce a capire meglio se hai fatto tante cose, più cose hai fatto nella tua vita e meglio riesci a capire le persone, anche perché con tanti mestieri che ho fatto ho potuto conoscere anche veramente migliaia di persone, quindi qua mi piace confrontarmi, chiacchierare, quindi quello sicuramente sì. Ultimamente ha seguito Keanu Reeves anche nei videogiochi, non sa niente della trama, aveva detto di non aver capito bene che cosa fosse. Assolutamente non la mazza, non so nulla perché i videogiochi si fanno sul nero e questa è una cosa che per quanto mi riguarda è sbagliata perché noi siamo interpreti, per interpretare dobbiamo capire, vedere, analizzare e invece sul videogioco non vedi nulla per cui vai alla cieca e spesso quando mi risento appunto nei lavori che ho fatto nei videogiochi, nonostante il pubblico mi passa degli attestati di stima enormi, io trovo che se l'avessi visto avrei potuto dare molto di più. A proposito di questo, molti doppiatori si lamentano del fatto che ultimamente è sempre più difficile fare un lavoro di qualità perché i tempi sono sempre più ridotti e addirittura in certi casi non si vede più nemmeno l'attore per intero, soltanto il fotogramma della bocca con il resto oscurato. Come si fa a fare un buon lavoro in questo modo? Non si fa, non si fa. A me è successo anni fa con un film dove c'era appunto tutto lo schermo nero e si vedeva soltanto da un buco, si vedevano le labbra, quindi io gli ho detto no, mi dispiace, io mi rifiuto, fatelo fare un altro e non l'ho voluto fare. Dopo due giorni è arrivata una copia in bianco e nero e ha potuto doppiare tranquillamente. Siamo noi che sbagliamo ad accettare certe condizioni, perché noi non siamo macchine, il nostro è un lavoro artigianale e l'artigianato si può fare soltanto, intanto con il tempo, con la pazienza, con la conoscenza. Non puoi andare a doppiare un film con uno schermo nero e doppiando le labbra. Quindi io lo dico non a chi ci propone queste cose, perché loro magari non so perché lo propongono, io lo dico proprio ai miei colleghi, rifiutatevi, non fate questo scempio. Perché poi quando vi andate a riascoltare, il vostro lavoro è sicuramente sbagliato. Sbagliato. Oggi i social come TikTok permettono di fare dei doppiaggi di dubbissima qualità. Il doppiaggio anche grazie a altri mezzi come YouTube, per esempio, è diventato sempre più accessibile ma in questo modo sempre meno in mano ai professionisti. Quindi voglio sapere, come alcuni suoi colleghi lei si rifiuta di doppiare insieme a giovani che non sono adatti e quindi magari doppia con la colonna separata? Oppure glielo va proprio a dire bisogna studiare, bisogna migliorare? Allora, il doppiaggio è il mestiere più difficile per un attore. Faccio un esempio di un attore importante italiano, Tony Servillo, che è insomma un gigante. Ho letto una sua intervista dove diceva che ogni volta che entro in sala di doppiaggio mi tremano le gambe. Detto da lui, ci si può credere. Il doppiaggio è un mestiere veramente complesso, difficile, in pochi lo sanno fare. Infatti gli attori, soprattutto gli attori importanti italiani, sono pochi a farlo. Perché è veramente complesso? Per quanto riguarda quelli che si improvvisano, è un problema loro. Tanto sarà il mercato ad eliminarli. Per cui non me la sento di dire nulla. Io lavoro solo in colonna separata, da sempre, ormai sono più di vent'anni, quindi non incontro mai i miei colleghi. Il nostro è un mestiere che lo possono fare persone certificate, attori che vengono dal teatro. I doppiatori, sì ci sono e ce ne sono tanti, ma la loro interpretazione sarà sempre la stessa, sarà sempre quella. Poi mettici anche che oggi non c'è più il tempo. Io per esempio prima facevo il direttore di doppiaggio e avevo il tempo di dedicarmi a un giovane e cercare di trasmettergli il mio, la mia conoscenza del mio lavoro. Oggi questo tempo non c'è più. Quindi io non riesco ad aiutare il ragazzo, l'artista, l'attore a crescere in questo mondo così difficile. E quindi non essendoci questo, infatti ho smesso di fare il direttore, perché a me piace anche insegnare, tramandare il mio mestiere. Si doppia troppo velocemente a scapito naturalmente soltanto del pubblico, punto, perché è il pubblico poi che ascolta. E al contrario di quello che pensano molti, il pubblico, soprattutto il pubblico italiano, è scaltro e lo riconosce. Un doppiaggio giusto da un doppiaggio sbagliato. Non sono nati ieri. Questa è una domanda alla Billie Elliot. Cosa prova oggi ancora quando entra in cabina? C'è ancora la magia o no? Ma sì. Cioè intanto la sfida, perché ogni volta vai a fare un film diverso, ogni volta l'attore che doppi fa un'interpretazione diversa e ti fai il segno della croce, perché comunque il doppiaggio è una vera sfida. Io faccio tutto, teatro, televisione, cinema, ma il doppiaggio è proprio la sfida vera. Lavori su tempi non tuoi, su una faccia che non è la tua, solo con la voce. Insomma, non è semplice. Diciamo che è un mondo che mi piace ancora tanto ed è per questo che poi lo faccio in trincea, quindi lo faccio a leggio. Lo devo chiedere per forza, perché quest'anno sono i 20 anni del gladiatore. È ancora tanto affezionato a quel ruolo, soprattutto visto che, come me, che sono cresciuta a Ostia, si parla di Ostia, di Roma, dell'antica Roma, delle nostre radici. Assolutamente sì. Il gladiatore ha dato una sorta di consapevolezza anche proprio ai romani della potenza di questa città, che nonostante siano passati dei secoli ormai dall'impero, però è una città estremamente potente. Però lo dobbiamo capire noi, perché ultimamente c'eravamo un po' persi, ci sentivamo sempre secondi a qualcuno. E noi non siamo secondi a nessuno, noi siamo proprio numeri uno. Il problema qual è? Chi timona la nave. Perché se il timoniere è un gran timoniere, allora l'equipaggio poi risponde, la nave naviga splendidamente, ma se il timoniere non sa navigare, allora è un problema. Lei lo diceva, fa anche teatro, ha fatto la fiction, tutto, però ultimamente ha fatto uno spettacolo, che è De Fulmonti, in cui ci ha messo il corpo, insomma, più del solito. Anche qualche cos'altro. Esatto. L'ha accettato proprio per questo? Perché ovviamente poteva metterci anche il corpo. No, no, l'ho accettato per un motivo, perché il mio personaggio è un ballerino, non professionista ovviamente, però balla. E io, siccome ero proprio una schiappa a ballare, sapevo fare quelli canonici, cioè il valser, un po' di tango, quelli che gli attori sanno fare. E il cia cia cia, tutta sta roba qui, no. E ho detto, fosse la volta buona che imparo a ballare? Tant'è che poi, durante una rappresentazione, venne mia figlia, che sa perfettamente che sono una schiappa, e quando mi ha visto, la prima cosa che mi ha detto dopo l'ho scrittura, ho detto, papà, fantastico, balli da Dio. E questo, insomma, è stato un coronare la mia carriera. Lei ha sempre detto che con Russell Crowe sente un legame speciale, però adoppia anche Samuel E. Jackson, meraviglioso, ha adottato Kevin Costner. È ancora Russell Crowe il suo preferito, ma per i film, per l'attore, chi è? Russell Crowe mi piace l'uomo, perché lui è un attore non schierato, e questa è la cosa più importante per un attore. Russell Crowe non l'ho mai sentito parlare di politica, mai, come Ridley Scott, un altro grande del cinema. Poi avranno sicuramente le loro idee, però io credo, ho sempre pensato, che l'artista debba essere libero, perché l'artista è di tutti. Se ti schieri da una parte, inevitabilmente dall'altra parte non ti potranno vedere, è invece una stupidaggine. Ci schieriamo, ecco, anche Russell Crowe si schiera nel sociale, come lo faccio anch'io, ma politicamente no, e quindi questa è una cosa molto bella per un attore. Un attore che va a ritirare un Oscar e non fa una dichiarazione politica, come senti fare a quasi tutti quanti i mostri del cinema americano, francamente ha vinto. Ce n'è uno che non ha mai doppiato e invece vorrebbe? Bella domanda, ho doppiato tutto. Ho doppiato tutto, cosa vorrei poter doppiare? Non lo so. Forse Gesù. Quando Zeffirelli fece il suo grande film, io ero troppo piccolo. Mi fecero il provino, ma ero troppo piccolo. Adesso forse sono troppo grande, quindi Gesù mi sa che non ne ha faccio. Magari San Pietro, non lo so. Però Gesù è Gesù, Gesù è tutta storia, è tanta roba. Mi chiedono sempre del cinema, però prima parlavamo dietro le quinte di serie, di Sonso Vanarchi, serie meravigliosa, che lei ha diretto, il doppiaggio. Durante, quando si doppia un personaggio per tanti anni, come per esempio Sonso Vanarchi, si diventa un po' fan anche di quella serie di personaggio? Ma questo è inevitabile, perché intanto Sonso Vanarchi è una serie straordinaria, è una serie cult, ha degli attori meravigliosi, delle facce vere, le facce proprio da cinema. Quelle che cercava Sergio Leone, no? Sergio Leone nei suoi film Cosa vedi tu? Le facce. Le facce, no? I bambolotti, le facce. La struttura narrativa si rifanno poi a un motoclub famosissimo in America, di questo gruppo di motociclisti che poi sono alternativi alla polizia, cioè poi la popolazione si rivolge a loro per risolvere problemi. C'è un caso di pedofilia, per esempio comincia proprio così la serie, con un caso di pedofilia e il papà di questa bambina che è stata abusata va da loro, dice tanto se vado alla polizia in questo caso non lo risolvono, voi sì, infatti loro lo risolvono in maniera pesantissima, perché poi ci vanno giù pesante, ed è una serie straordinaria. Fra l'altro noi siamo in questo posto, l'ETS, è la serie dove abbiamo doppiato le sei stagioni di Sonso Vanarchi, vabbè chiaramente qui si doppia molto altro, però ecco questo è uno dei tempi romani del doppiaggio. In fine le diceva le facce, Sergio Leone, il genere, gli italiani una volta erano i maestri del genere, negli ultimi anni un po' ci stiamo tornando, infatti le facce sono anche un po' cambiate. Ci dobbiamo credere secondo lei? Lei ci crede in questa rinascita del genere italiano o no? Bisogna sperare che sia così, perché noi eravamo i primi al mondo e siamo diventati gli ultimi. Ci sarà un motivo, no? Qualcosa è stato sbagliato, qualcosa non ha funzionato. Io ve lo sento dire perché il cinema italiano fa i numeri da quelli diciamo interessati, ma quali numeri? Ma dove? Siamo al 160esimo posto per vendite all'estero, quindi di che cosa stiamo parlando? Noi gli Oscar ce li andavamo a prendere negli anni 50-60 con i grandi produttori, grandi registi, grandi attori, grandi sceneggiatori. Oggi non mi sembra che questo succeda, insomma è molto difficile. Mi auguro che si torni a qualcosa di diverso, forse le nuove piattaforme, vedi Netflix, Amazon, può darsi che con loro si riesca a fare qualcosa, un percorso magari non all'indietro perché non si può tornare indietro, però un percorso dove riportiamo questo paese al centro, perché lo merita, perché poi i nostri reparti tecnici, i nostri attori, le nostre attrici, insomma ce ne abbiamo, siamo bravini, dai!